E l'andamento positivo dei dati relativi al contagio e l'atteggiamento ottimistico del primario medico Romeo Flocco del reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli. I numeri della pandemia in Morise raccontano una storia decisamente positiva per merito soprattutto dei vaccini e del rispetto delle norme. Una situazione che trova un indubbio ottimismo nelle opinioni del dottor Romeo Flocco, responsabile del reparto di rianimazione del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso. Questa poteva essere la settimana chiave, infatti le riaperture sono iniziate il 26 aprile, se ci fosse stato un picco come conseguenza delle riaperture l'avremmo avuto in questa settimana, non c'è stato. Quindi insomma si potrebbe cominciare a intravedere la luce in fondo al tunnel. Come diceva il nostro premier è stato un rischio calcolato, è stato calcolato bene questo rischio. Naturalmente non bisogna adesso mollare completamente il controllo, bisogna essere sempre cauti. Dobbiamo ricordare quello che è successo l'estate scorsa. Quest'anno abbiamo il vantaggio dei vaccini che comunque si sta cominciando a diffondere come difesa della popolazione. Quello che non bisogna ripetere è mantenere sempre il controllo dei numeri. Quindi se i numeri dovessero mostrare un trend in ascesa bisogna subito applicare delle misure cautelative. L'anno scorso forse a settembre ci siamo distratti, pur essendoci i numeri in ascesa abbiamo aspettato un pochino prima di intraprendere delle misure un po' più rigide. Nel nostro paese la prima ondata ha colpito prevalentemente il nord e la manifestazione clinica della malattia è stata gravissima, come è stata gravissima nella seconda e terza ondata. Anche se da noi tra la seconda e la terza ondata non c'è stata nessuna interruzione, è come se fosse stata un'unica seconda ondata. Da noi invece la prima ondata è stata un po' meno intensa, per cui il confronto non è paragonabile. Possiamo dire che a livello nazionale la gravità della malattia è stata tale, sia nella prima ondata che nella seconda e terza. Da noi abbiamo visto una maggiore gravità nella seconda ondata, proprio perché nella prima ondata eravamo stati leggermente risparmiati. È solo una questione di numeri.